Ho anche la voce rotta, raccontandolo perché mi ha davvero emozionato. Questo è uno dei film veramente più scioccanti di quelli che ci sono al cinema in questo periodo e che ha ricevuto diverse candidature all'Oscar, e sto parlando della zona di interesse. In questo video cercherò un po' di spiegarvi il finale, di analizzare il film dal punto di vista del significato più profondo. Se siete usciti dal cinema con alcune domande, ecco, cercherò di rispondere a tutte, anche perché faremo il punto su tutte le cose che sono rimaste un po' in sospeso e che gli spettatori non hanno capito dopo aver finito di vedere questo film. Il film è di Jonathan Glaser ed è uno spaccato importante su quello che è stato l'Holocausto nella Seconda Guerra Mondiale. Un punto di vista davvero particolare, anche perché ci parla di una famiglia che vive accanto al campo di concentramento di Auschwitz. Il marito è il capo del campo, è il funzionario che gestisce il campo di concentramento e vediamo per tutto il film la moglie, i figli, come si muovono nella naturalezza dentro questa villa, con giardino, dei fiori, il curarsi delle cose, la vita che nasce attraverso le piante e dall'altra parte del muro le urla la morte e l'orrore che c'è stato durante quel periodo storico in quella parte del mondo. È un film agghiacciante, anche perché inizia e finisce con una musica e sottofondo si possono udire delle urla che ci rimandano all'orrore che si viveva lì vicino, i fumi tossici che venivano emanati dal campo di concentramento di Auschwitz in un turbinio di suoni che, devo dire, mi hanno davvero scioccato e credo che la candidatura per il miglior sonoro sia fondamentale per questo film e agli Oscar è chiaro che darà del filo da torcere anche agli altri candidati nella categoria di miglior sonoro, anche perché non vediamo mai quello che succede all'interno del campo di concentramento, ma è tutto attraverso le orecchie. Per tutta la prima parte del film c'è un'ansia che sale, 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 paura nostra di udire quello che succede al di là del muro e la nostra... rimaniamo scandalizzati dalla naturalezza con cui i personaggi si muovono invece all'interno della casa. Il finale della zona di interesse ci riporta Rudolf Hoss, funzionario che gestiva Auschwitz, poi è stato trasferito a un certo punto del film, la sua famiglia però è rimasta a vivere accanto al campo di concentramento e alla fine lui chiama la moglie dicendo mi fanno tornare a lavorare lì, dillo ai ragazzi, sarete contenti, sono molto contento, papà torna e quindi potremmo rimanere lì, anche perché la moglie per tutto il film dice questa è la vita che ho sempre sognato, anzi è anche meglio di quella che speravo e noi vogliamo continuare a vivere qui, se tu devi andare a lavorare lontano vai tu, ma noi non ci muoviamo da qui. E in particolare Rudolf deve tornare ad Auschwitz per pianificare lo sviluppo di altre camere a gas che verranno utilizzate per i prigionieri ungheresi che verranno deportati lì. C'è una frase agghiacciante che dice Rudolf al telefono mentre va a questa festa a Berlino e dice l'unica cosa a cui riesco a pensare è come gasare tutti nella stanza. In quella che è apparentemente la sua ultima notte a Berlino, nel finale vediamo Rudolf che scende delle scale e comincia a sentirsi male. Sono conati di vomito, ma non vomita mai. E a un certo punto guarda il corridoio buio e noi veniamo trasportati nel presente, cioè nel museo di Auschwitz dove gli inservienti stanno pulendo e passando l'aspirapolvere su tutti quelli che sono i cimedi e le reliquie degli ebrei che sono stati al campo di concentramento. Il film si conclude poi con Rudolf che scende le scale nell'oscurità. Ci sono due motivi per cui Rudolf ha i conati di vomito e si sente male sulle scale nel finale della zona di interesse. Il primo sono i fumi tossici che ha respirato per tanto tempo ad Auschwitz e potrebbe avere davvero problemi di salute, potrebbe avergli portato un tumore o qualcosa di simile, anche perché lo vediamo farsi visitare da un medico all'addome quando era ancora a Berlino. Il secondo motivo è ancora più agghiacciante. I conati di vomito sarebbero una metafora della violenza della sua natura e potenzialmente di qualsiasi minimo grammo di umanità che è disgustato dai crimini che ha commesso. Poi passiamo alla madre della protagonista, Edwidge, perché se n'è andata. Era arrivata tanto contenta, starò qui con voi, ti aiuterò con i bambini. Sembrava anche quella più razzista, se vogliamo. Diceva, come ti metti gli ebrei dentro casa. Solo che poi, quando si rende conto di quello che succedeva al di là del muro, delle urla del fuoco e dei forni crematori che vedeva sbuffare, uscire il fumo, da Auschwitz decide di scappare in piena notte e la figlia addirittura brucia il biglietto che gli aveva lasciato la madre. Chissà cosa c'era scritto, ma indubbiamente la madre si era resa conto che era troppo anche per lei ed ha abbandonato la casa. C'è un'altra domanda che ricorre spesso nei commenti. Chi è la ragazza che vediamo mettere mele e pere intorno ad Auschwitz nel percorso che porta al campo di concentramento. Ebbene, quella ragazza è una polacca, probabilmente ebrea, che tutti i giorni, tutte le notti va a portare delle mele nel percorso che devono fare i deportati per dar loro qualcosa da mangiare, per aiutarli in questo cammino orrendo e cerca di nascondersi anche per non farsi trovare dalle SS, perché probabilmente, dicevamo, è ebrea, ma sono polacchi che vivono nei paraggi, nella strada del campo di concentramento. Ed è interessante questa visione termica, un filtro termico, che abbiamo di questa ragazza che tutti i giorni porta le mele nelle strade, e, insomma, nei percorsi che dovevano intraprendere. Vediamo anche il treno che passa dietro di lei e che ci ricorda tutte immagini orrende e davvero molto pesanti di una fetta di storia che non avremmo voluto vedere, ma che fa bene ricordare. Ma torniamo a Rudolf, quando lui guarda l'altra estremità del buio, del corridoio, rimane così spiazzato, noi veniamo teletrasportati nel presente, quasi cento anni di distanza, dove ci sono le scarpe, le borse, le valigie dei deportati, delle persone che sono morte ad Auschwitz. E questo è grandissimo, anche la voce rotta, raccontandolo perché mi ha davvero emozionato, e questo è un grandissimo messaggio dal significato profondo, il fallimento dei nazisti di sradicare il ricordo degli ebrei dalla terra, dal nostro pianeta. E forse è il messaggio più grande che manda questo film e che consiglio a tutti di vederlo, perché è veramente un film sconvolgente che ti porta nella banalità dell'orrore, che banalizza l'orrore, dandogli però un significato molto profondo e che ci ricorda una volta di più, che c'è stato quel periodo della nostra storia, c'è stato purtroppo, e che non c'è stato così tanto tempo. Quindi io vi consiglio di recuperarlo, se non l'avete visto, fatemi sapere però qui sotto cosa ne pensate, cosa vi ha lasciato, ho visto veramente persone che non riuscivano ad alzarsi dal cinema quando ci sono andato, e che si sono prese giustamente alcuni minuti prima di metabolizzare il contenuto dei film. Fatemi sapere, insomma, commentate e iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è che azione, se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per restare aggiornati sui prossimi video. Seguiteci su Facebook, Instagram, TikTok, per tutte le news che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!